guardate, gli tiri dritto il codino e gli si arriccia di nuovo arricciato, dritto, arricciato, dritto, arricciato, dritto, arricciato, dritto signor Simpson non credo affatto che lo gradisca è certo che lo gradisce, è un porcellino tanto bellino arricciato, dritto, arricciato, dritto questo maiale si comporta in modo strano, si è bevuto una cassa di liquore col signor Simpson ragazzi sta malissimo oi boh, sembrava il rumore di un maiale che sviene mi dispiace davvero ragazzi, prima d'ora non ho mai espulso nessuno ma quel maiale aveva degli amici potentissimi la pagherete, state certi che la pagherete ragazzi credetemi, non volevo farvi espellare non si preoccupi signor Simpson, possiamo badare a noi stessi ispettore portafogli ecco a lei, credo che sia tutto in ordine chi l'avrebbe detto che avrebbe funzionato ehi, quello non è l'ispettore portafogli